Da un mese è diventata la nuova dirigente dell'ufficio scolastico delle Marche. Dopo otto anni di direzione di Ugo Filisetti è andato in pensione in estate, il timone della scuola regionale è passato a Donatella D'Amico, reduce da tre anni alla direzione dell'ente per il diritto allo studio universitario del Piemonte. Questa mattina la 58enne abruzzese ha scelto Pesaro e in particolare Pesaro Studi per salutare la sua prima campanella all'anno scolastico marchigiano. La realtà che ho trovato a Pesaro io penso che sia unica. È una testimonianza di una ricostruzione che parte veramente dalla base, dal territorio. Quindi le scuole insieme all'amministrazione comunale hanno fatto delle scelte ottime, ottime viste ovviamente dall'ottica della scuola. Più istituti in uno stabile ma senza rischi di sovraffollamento. Abbiamo visto qual è il rapporto medio e abbiamo visto che in questo istituto comprensivo si aggira intorno ai 20-21 a classe e lo stesso vi posso dire a livello regionale. Stiamo sul 20,21 quindi è una media ottima. È ovvio che poi nelle singole scuole ci può essere, dipende poi dalle aule, l'aula più affollata, quella meno, però abbiamo delle percentuali molto valide e che insomma rassicurano non solo la scuola ma anche le famiglie. A Pesaro la D'Amico ha anche dato la sua positiva sottolineatura ad alcune novità introdotte come la rinnovata importanza al voto in condotta. Il voto in condotta ha la sua grande importanza perché il voto in condotta è rispetto delle regole. Rispetto delle regole significa rispetto dei valori. In un'ottica in cui la scuola sta cercando di recuperare un ruolo sociale e qua ne abbiamo la testimonianza, io penso che sia stato veramente importante questo passaggio sul recuperare l'importanza del voto in condotta. Da quest'anno saranno introdotte anche le figure dei docenti orientatori. Sono insegnanti che già esistono nella scuola, cioè non sono aggiunte, quindi saranno docenti con una sensibilità in più verso proprio la costruzione insieme agli alunni di questo percorso di orientamento che partendo dai più piccolini arriva fino alle scuole superiori, quindi con la scelta del percorso che può essere università oppure mondo del lavoro. E infine il precariato, una sfida tavica sulla quale quest'anno ci siamo mossi con anticipo di procedure. Quest'anno, come gli ultimi anni, c'era quello che definiamo l'algoritmo. Diciamo che era un po' più controllato, abbiamo avuto meno problemi e quindi ci auguriamo di avere tutti gli insegnanti prima di tutto in cattedra in questa prima giornata. C'è sempre la percentuale che secondo me è impossibile non averla di supplenti, però abbiamo ridotto molto la percentuale dei supplenti che insomma quest'anno riesce a seguire un po' l'andamento della scuola, quindi questi numeri in crescita nella nostra realtà.